Prima riunione a Imperia per la nuova commissione di vigilanza sulla piscina comunale presieduta dal sindaco Claudio Scaiola. L'incontro, tenutosi nei giorni scorsi, ha visto l'ingresso dei nuovi membri della commissione ed è servito a fare il punto sulla situazione dell'impianto, presente anche l'assessore allo sport Simone Vassallo. Nel corso della riunione è stato deciso di avviare una valutazione dei rapporti contrattuali tra il comune e la Rari Nantes, la società sportiva imperiese che gestisce l'impianto pubblico. La Rari è stata anche informata dei passaggi previsti in vista dei lavori che partiranno il prossimo anno e che prevedono importanti interventi di riqualificazione della piscina a Felice Cascione. La commissione si è conclusa con il mandato ai dirigenti di effettuare gli opportuni controlli sulle materie trattate nel corso della stessa seduta.